Marcin Ghiuva Revisore Buongiorno a voi, sono molto felice di essere qui. Quando ero al liceo, avevo un amico che tirava di scherma. Era un atleta che si allenava con la nazionale, un ragazzo molto bello. e la sua mano destra era decisamente più grande della sua mano sinistra. Questo perché da quando era bambino, ogni giorno, come una goccia sulla pietra, si allenava in modo asimmetrico. La mano di Giovanni mi è venuta in mente una mattina non tanto tempo fa, svegliandomi, e ho pensato, chissà in che modo la fotografia, il fare fotografia da trent'anni, ha modificato il mio corpo e soprattutto il mio modo di pensare. Quando fotografo mi succede una cosa speciale, bellissima. La mia mente diventa muta e silenziosa e mi si sviluppa una sorta di ponte che mi rende capace di cogliere la realtà della cosa che ho di fronte, che mi rende capace di estrarne delle immagini che sono molto specifiche, che riescono a descrivere molto bene la cosa che io ho di fronte, ma che contemporaneamente sono anche delle immagini che vanno a risvegliare una parte profonda di me, che vanno come a rivelare delle verità che io molto spesso sono in grado di capire solo dopo, perché nel mio pensiero le mie parole arrivano un po' dopo. Potremmo dire che la differenza più grande che c'è tra un discorso fatto con le parole, che inanella le parole come se fossero delle perle di una collana, è un discorso fatto con la fotografia, quello che ci dice la fotografia è proprio questo, che la fotografia è come se congelasse l'intuizione che noi abbiamo di quella cosa, ci permette di portarci alla casa, di pensarci dopo, ed è una cosa grande, una rivoluzione del pensiero. In questo giorno, dedicato alla bellezza, e a come tutti noi possiamo cercare di ristabilire il valore della bellezza, e anche usare la bellezza per risvegliare quello a cui noi teniamo, per dargli valore. Non possiamo dimenticare un libro molto importante per noi fotografi, che si chiama proprio La bellezza in fotografia. È un libro che è stato scritto da un signore che si chiama Robert Adams, che ha detto molte cose, ma ha detto una cosa molto speciale che ha la forza di un'immagine. lui dice che l'etimologia persiana della parola paradiso è un luogo recintato. E Robert Adams dice, in fondo, anche l'inquadratura è un luogo recintato. Potremmo dire che l'inquadratura è il paradiso del fotografo. Grazie all'inquadratura, infatti, il fotografo riesce appunto a sottrarre un pezzo di mondo e di spazio, riesce a portarselo via. E questa sottrazione che lui fa, in fondo, è quello che permette di togliere questo pezzo da una memoria indifferenziata che ha così ben descritto Borges nel suo meraviglioso Ireneo Funes. una memoria indifferenziata che, senza questa sottrazione, sarebbe un deposito di rifiuti. E' proprio grazie a questa sottrazione, grazie al fatto che io posso connettere una serie di intuizioni, che io posso pensare. Quindi potremmo dire proprio che la differenza più importante della fotografia è proprio questo costruire un'immagine attraverso una sorta di stratificazione di senso. Il fotografo sceglie che cosa prendere. E il modo in cui lo sceglie può variare, perché dipende dal rapporto che lui ha col tempo, dal rapporto che lui ha con l'irruzione che il caso fa, all'interno della sua inquadratura. Ci sono fotografi che è come se giocassero a tennis, devono prendere una palla al volo. Ci sono fotografi che invece è come se gettassero delle reti, e non sanno bene che cosa tireranno su. Ci sono fotografi che si appostano e devono aspettare, devono aspettare che arrivi qualche cosa in grado di rivelargli quello che loro stanno cercando. E poi ci sono fotografi che stanno lì e aspettano, perché è proprio la durata, il tempo come durata, che vogliono registrare. Ma volendo arrivare in fondo a questa collana di parole, vorrei dirvi quello che per me è una sintesi visiva, dandovi un'immagine che ho rubato in questi giorni a Venezia. è l'immagine tolta da un epigrafe che ricorda un uomo morto alla fine di una lunga vita, che i suoi cari hanno deciso di ricordare con una sintesi, che in un qualche modo riassume con un'immagine, con la potenza di un'immagine, il senso della sintesi visiva. Certo che tutti questi ragionamenti che io faccio sul senso che la fotografia ha per me, su come la fotografia ha modificato la mia mente, sviluppando delle parti, atrofizzandone altre, su come io interagisco con la scena, anche cambiandola, come qualche fisico ha ben dimostrato, come il mio stesso osservare va a cambiare la scena, fino ad arrivare al parossismo di essere un proiettore di realtà. tutte queste cose che la fotografia mi ha regalato in questi trent'anni, a cui devo moltissimo, perché io sono quello che sono per queste cose che ho avuto la possibilità di approfondire, mi lasciano comunque un dubbio, una domanda principale, importante, ed è, ok, ma se tutto questo serve per me, a che cosa serve al mondo che io sia una fotografa? E più in generale, a che cosa serve oggi, nella primavera del 2017, in un'epoca in cui la fotografia da strumento di attenzione è diventata un modo per non essere presente al nostro presente, in cui si fotografa prima di guardare, in cui si mostra prima di vedere. Che senso ha, oggi, che ci siano dei fotografi professionisti? Ha ancora un valore, oggi, la fotografia? Per, in qualche modo, inerpicarci in questo ragionamento, allora farei ancora un passo indietro e vorrei un po' spiegarvi, nello specifico, in che cosa consiste il mio lavoro. Io fotografo spazi, lo faccio da trent'anni, e diciamo che il mio lavoro avrebbe una grande vocazione di essere semplicemente una riduzione, perché ridurre uno spazio all'interno di un'inquadratura sembra assolutamente una riduzione. Perché non lo sia? Occorre che sia un'interpretazione. E perché sia un'interpretazione? Occorre che io abbia degli strumenti, perché questa interpretazione sia ricca, che io possa sovrapporre dei livelli di pensiero nel momento in cui vado a interpretare. E quindi, molto spesso, devo studiare, devo anche traguardare dei secoli secoli in cui sono cambiati i codici di rappresentazione dell'architettura. Devo fare tutto questo, farmi spiegare che cosa implica il progetto dell'architettura. Io devo tradurre l'idea che l'architetto ha trasferito nell'opera, che io sto guardando, che io sto rappresentando. Però devo riuscire a fare tutto questo senza che tutto questo sapere, tutti questi pensieri, tutte queste cose che devo studiare vadano come un rumore della parte sinistra del mio cervello a impedirmi di costruire il ponte di cui ho necessità per andare a fotografare, per andare a raccontare con un'immagine questa cosa. Ho bisogno che sia la luce a comandare il mio lavoro. in un qualche modo ho bisogno di capire, di lasciar parlare la cosa che io ho davanti. Mi sono domandata tante volte se quello che io faccio ha una via, ovvero se esiste una domanda che mi viene posta dalle cose che io sto fotografando, se esiste un modo per fotografare che è più consono di altri, se questa scelta è più giusta, anche rispetto all'idea che ha generato l'opera, e rispetto al tempo, se esiste un modo in cui le cose ci chiedono di essere fotografate. ma torniamo alla domanda principale. Ormai molto tempo fa, dieci anni fa, andavo in macchina e ascoltando la radio mi ha colto come la potenza di un'immagine, un frammento di una trasmissione in cui si diceva che la società controlla gli individui. uno dei modi in cui la società controlla gli individui è fare credere loro che i problemi sistemici abbiano una soluzione individuale, mentre si tratta di problemi sistemici che non possono essere risolti individualmente, che possono essere risolti solo a livello sistemico, che significa anche collettivamente, tutti insieme. Allora ho pensato, ma allora io tutto quello che faccio per comportarmi bene, per fare bene le cose che faccio, anche eticamente intendo, tutto il percorso che io faccio per lasciare un mondo migliore di quello che ho trovato, forse non basta, non ha senso, forse io devo fare un passo in più, forse io devo cambiare il contenitore. E quindi ho pensato, io voglio essere la miccia. e ovviamente dovevo farlo usando quello che so fare, facendo quello che so fare. Quindi ho iniziato come prima azione a mescolare il mio modo di lavorare con quello del reportage, quindi a non pensare che fotografare gli spazi e fotografare le persone siano due generi fotografici distinti, ma che possano essere due parti di una stessa spiegazione, di uno stesso racconto. ho iniziato a lavorare con Isabella Balena su Gerusalemme e poi, successivamente, con Fulio Orsenigo, con cui ho lavorato e vissuto per vent'anni. Isabella, abbiamo sviluppato un importante progetto per raccontare i valori e i disvalori del piano paesaggistico della Sardegna. Il piano paesaggistico che ha valso alla Giunta Soru, un premio importantissimo dell'Unione Europea, è la testa del suo governatore. Perché cosa succede? Succede che se io voglio difendere un territorio dall'aggressione di un mercato turistico molto violento e lo faccio a suon di leggi e decreti, non funziona. Perché il modello della Costa Smeralda è entrato così fortemente nella mente delle persone, che non è più semplicemente lo speculatore che fa una porcheria, ma è anche il singolo che deve farsi una casetta fa una porcheria, perché il suo modello è diventato quello lì. Quindi io vado a fare un'azione culturale, vado a portare cultura, come delle infiltrazioni quando hai un braccio che ti fa male, lo faccio in maniera capillare. Oppure il modello, quello sbagliato, vince. E quindi io pensavo che la fotografia può proprio servire per andare a inoculare questo nuovo modo di pensare, ma che bisogna trovare un modo per farlo. È un'idea nuova che bisogna capire, bisogna far girare, bisogna anche confrontare con altri. Per questo poi, nel 2009, a seguito del terremoto dell'Aquila, abbiamo armato un grandissimo progetto chiamando a raccolta tutti i giovani fotografi che avevamo formato nei corsi dell'OIU, all'Università di Architettura di Venezia. E abbiamo cercato, in dieci, eravamo circa dieci fotografi, abbiamo lavorato per un anno, di andare a colmare quell'enorme distanza tra quello che noi vedevamo e quello che ci veniva raccontato, che era una cosa vergognosa, assurda. E soprattutto, per usare il tema di questo disastro di una città che non c'è più, per far capire alle persone che cosa significa, come dice un'amica, come ha detto Nicoletta Baldi, una carissima amica aquilani, cosa significa essere orfani di una città, vivere in un luogo che ha perso il suo centro storico, il suo municipio, tutti i suoi luoghi, le biblioteche, non avere più nessun luogo identificativo a livello collettivo. E quindi abbiamo fatto poi questa mostra, molto importante, che è andata prima di tutto a Venezia, a Palazzo Ducale, e poi ha girato in altri luoghi, facendo in modo che nessuno di noi firmasse le sue fotografie, perché era un omaggio all'Aquila. Ma abbiamo discusso insieme moltissimo su come costruire questo progetto. Diciamo che abbiamo fatto un gruppo di lavoro, tutti insieme, e abbiamo prodotto questo lavoro. L'ultimo atto è ormai di quattro anni fa. È un lavoro che è nato insieme da un'idea condivisa con Roberto Sartor e Antonio Di Cecco. lavorare ancora all'Aquila, portare all'Aquila 50 fotografi e farli lavorare fianco a fianco, ognuno con un cittadino. Questo perché, se io ritengo che la fotografia di paesaggio sia destinata non all'americano che deve mandare le cartoline, ma a risvegliare il valore del bene comune negli abitanti di quel luogo, è chiaro che l'unica possibilità che ho è mettere insieme lo sguardo esperto allenato di un fotografo con lo sguardo ravvicinato di un cittadino, in modo che possano nutrirsi a vicenda. È stata un'esperienza veramente speciale. Abbiamo lavorato insieme per una settimana. I fotografi hanno discusso fra loro di metodo, di contenuti. I cittadini hanno nutrito tantissimo questo processo e penso che ne siano stati nutriti. Ma è un progetto troppo grande per un gruppo di fotografi di belle speranze. Noi ci siamo molto battuti, ma non siamo riusciti a coinvolgere le istituzioni. Quelle stesse istituzioni che si riempiono la bocca della parola partecipazione e non pensano che la cultura sia fondamentale, che sia necessario riportare la cultura e che la fotografia, come cultura visiva, sia uno strumento necessario per andare a riparlare di partecipazione e di paesaggio. È questa la grande scommessa. Che la fotografia possa tornare a essere utile e che un fotografo possa lavorare per qualcosa di più che una mostra in una galleria, che possa farci vedere qualcosa di più del suo ombelico quando fotografa il paesaggio. Che tutti insieme possiamo pensare che la cultura, anche quella visiva, sia un nutrimento che ci è fondamentale. E che questo, per chiudere ancora con un pensiero di Robert Adams, che la fotografia possa riacquistare il suo valore riconciliatorio, ci permetta di riconciliarci con questi luoghi sfigurati di questo paesaggio meraviglioso in cui viviamo e possa permetterci di dire tutti insieme sono felice di essere qui. Grazie. Grazie a tutti.